Questo nuovo evento è dedicato a una nuova collezione, è un periodo molto breve che lo conosco, forse sei o sette mesi. Da questo incontro è scattata e scaturita questa scintilla, perché noi con il nostro prodotto abbastanza esaltoriale cerchiamo sempre di essere propositivi, anche in questa crisi cerchiamo di aggredirla, non di essere aggrediti e aspettare che succeda qualcosa di irreparabile. E allora con la nostra sartorialità e il prodotto così portato da Nick cercheremo di fare, spero, perlomeno delle grandi cose, credo che sia un bel prodotto e poi non si avvicina a quello che realizziamo noi come Lardini o per gli altri marchi che stiamo valutando. Perciò ci auguriamo anche un po' di fortuna. Grazie